Musica Potente appare ragazzi Qua Max oggi Oh my god Oggi per una delle poche volte Non sono da solo Perché infatti sono in compagnia di Max Ruscha ragazzi un saluto a tutti Ospite più che speciale Neanche specialissimo Ospite più che specialissimo Te lascio solo se vuoi No no Comunque ragazzi Prima di iniziare ci sono due cose che dobbiamo dire La prima è che questa qua È una rivista perché infatti abbiamo Disputato una partita Abbiamo appena disputato una partita scusate io e Mike Non vi dico come è andata a finire Perché se volete vederlo dovete Andare dal suo canale il link lo troverete O in descrizione oppure come annotato Sulla mia faccia O sulla mia faccia Bell'idea Sulla sua fascia 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 Sulla sua faccia Quindi mi raccomando Prima di guardare questo video Guardate la prima partita Perché bisogna sapere come è finita Sì anche perché Esatto Anche perché ragazzi è finita in un certo modo Particolare diciamo Non diciamo niente Assolutamente no E poi come seconda cosa vi volevo ricordare Passate come sempre da OneFIFA.com Se siete interessati a comprare Credito di FIFA E mi raccomando utilizzate come discount code Il codice Axel Con 2 E detto questo ragazzi Io direi Di iniziare Però ragazzi Ci tengo a precisare Che comunque La mia squadra Si è forte Vedete Liberi Lewandowski Tutti trovati Nei pacchetti Però eh Tutti Cioè Quindi potete già trovare O meglio Notare la differenza Tra me e Mike È vero È vero Devo essere sincero ragazzi FIFA 15 Sculato come pochi Cioè cose mai viste Tra l'altro A proposito dei crediti ragazzi Ci giochiamo non solo l'onore e la gloria Ma anche crediti Come nella scorsa partita Perché infatti Guardate un po' qua Il foglio lo spiega semplicemente Un gol equivale a 100.000 crediti Il che vuol dire che La vuoi spiegare tu o spiego io? Si spiego io ragazzi Quindi Lo sconfitto Pagherà la somma dei gol Che ha subito Eh siamo già partiti con il dubbio A Eh siamo già partiti con il dubbio A Eh siamo già partiti con il dubbio A E siamo già partiti con il dubbio A Che ne scarta due Mamma mia Mamma mia Tra l'altro c'è uno stadio in ombra Praticamente Si fa schifo Però non ci ho mai pensato Vai sei pronto? Certo Ok ragazzi Sono nato pronto Oh sono nato pronto Attenzione Volano le parole Tac Obi Michel Obi Michel da la distanza Mamma mia Si è fermato il tempo ragazzi Sono morto dentro Veramente Un colpo al cuore Un infarto di cuore Cioè ci considera così scarsi ragazzi Che ci fa regalare Ma no che non ci vedo Non ho veramente parole Non ho parole Non ho parolo Però adesso Emeniche Signore e signori Vuole far sentire la presenza Oh mio dio Ma è impossibile Non lo sposti Non lo ferma nessuno Emeniche avanza La botta Parata Ma noi siamo ancora lì No 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 Così no Così è brutto Così è veramente Che sta succedendo Così è veramente ignobile Prendendo qualcosa Stiamo iniziando a diventare prevedibili Ma questo colo tu re Potrebbe vederlo No Effettamente No E c'è il colo E c'è il colo che venite Il colo dell'anno No No Annaggia Ma che cosa fa Bene va bene Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Questo è buone E' buone E' masbueno Vai Ross mafia Ross mafia Aia attenzione No Bravo Diego E' perché non esiste filtro E' ripartiamo Attenzione Camiseria Stile FIFA 13 Aia Bravo Bravissimi Palla per Ehi Ehi No Ma che sta succedendo Ragazzi Oh basta regalarci Palla Sei troppo Davvero E' Natale E' scambio di regali A Natale Puoi fare quello Che non puoi fare mai E' si riparte Oh Anzi No Riparte Lui con Riberì No Ragazzi Oh io Io veramente Paro tipo Uno 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 Potevamo fare una cosa Ragazzi Sta succedendo di tutto Lo trovo il buco qui Piero Emanico Obama Young Piero No Madonna Ragazzi Capito Oh Oh Signore No Vabbè Ragazzi Ragazzi Infamate Che sto Per Stavo Per Vedere Ottimo 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 No No Così non lo fai Mamma mia Cosa succede Ragazzi Non lo so 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 Ancora 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 Emaniche Mamma mia Sta per arrivare Io te lo dico Si E' maturo Ragazzi E' maturo Ragazzi Sapete già Cosa sto per fare Si La foto Raghi Ecco Sorridi No Aspetta No devi sorridere Stai sorridendo Assolutamente Stai sorridendo Dai vai Quello non può essere mai gol Tanto ragazzi Più rumori S'è possibile Bravo Diego Ci arrivi Ci arrivi Oddio Rallenty Cos'è piaciuto Eh vabbè Però così ragazzi È possibile Ma quanto lagga Gesù Bambino I miei giocatori Vanno Cos'è Cos'è Da solo Fa qualcosa No Mamma mia Non ci vedo E soprattutto E soprattutto lagga Come Ora 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 Oh Se ne va Bravo No Sfrutta il lag Attenzione Lagga Macello Che cazzo Dove sta Cos'era Cos'era Mamma mia ragazzi A prova di Di ciechi Qui Dobbiamo andare Eh vabbè Ottimo Dai Dumbia Dai Dumbia Bravo Vai Dumbia Dumbia Dai che ce ne deve Dove vai Tu non puoi passare Eh vabbè Ma tu non gliela puoi passare A lui però Cioè veramente Era rigore No non era rigore Non è rigore No ma la gammacello Ottimo Bravo Così è meniche Tarellone meniche Ragazzi è incredibile come Cioè la mia squadra Soffra Mi dispiace Ma non riesco proprio A Cioè non rispondo ai comandi C'è il controllo che non funziona Sì non sono scuse Mi raccomando Niente scuse No no E intanto Michael provava l'Eurogold Dai dai che questa pareggio Dai questa me la sento Me la sento nel DNA Che pareggio Tireni Aia Aia Ho paura Ho paura Aubameyang È troppo più Mio Dai ragazzi Riprendiamo questa mattina E' bastato Che cosa è successo Madone Mischio Selvaggio Mi si pensavo organico B Villa Tutti su di noi Moto Casbetto no ragazzi si dobbia rifare se lo sentiva c'è da dire questo, lo sentivo, lo sentivo il lag pazzesco ti volte tua no ragazzi curto è troppo forte curto no attenzione attenzione si tratta di attendato attendato ottimo male con l'uomo si ma quella è la skill infermabile no madonna che gol ha fatto madonna che gol ha fatto che gol ha fatto giunga 2 a 1 voglio i tuoi screditi li voglio che gol ha fatto ma che gol ha fatto hai da dire qualcosa no senza parole ragazzi cristiano ronaldo cristiano ronaldo sif questi gol non ve li fa però ve li fa dun piace che roba e le va gliela pa no ma dai no vabbè raga in una partita normale forse avremmo potuto dire la nostra ma non in questa ma siamo ancora 2 a 1 e tutto è ancora possibile voglio le euro gold no se segni così te giuro ti tolgo dalla mia lista amici e ciao ci andiamo brucio bello ci stava c'è stato c'è stato no ma che non e ho la e vabbè mamma mia se non ci fosse ma perchè dirà oh dai però aspetta un attimo cioè moh beh vabbè c'è ma se siamo un po' troppo si si dai dai c'è parole ragazzi cioè basta sapere spiegabili con ciò e ci siamo no mamma mia euro gold versione 2 sta per arrivare ma attenzione ragazzi è il gol scriptato alla fine della partita non siamo al novantesimo ottimo ottimo no ma non lag hai notato no no 89 sta per andare a finire ma noi lo fermiamo e adesso però è andato è vemenica vemenica è andato e no lo fanno lo fanno no oh se segna adesso madò leva il se leva il se arrivano gli urli eh eh ma leva il se no 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 leva il se leva il se leva il se eh mamma mia se non ci avessimo ah che braccio mi hai scrocchiato il braccio va bene va bene aia attenzione deve finire oh mamma mia su un po' di ciò e si può ripartire su un po' di ciò lento come la cacarella ragazzi veramente cioè no 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 e abbiamo vinto yes e abbiamo vinto e abbiamo vinto dai faccio parlare te vuoi dire qualcosa? eh si ragazzi io denuncio brogli e ovviamente scherzo ragazzi tu hai altre cose da dire mike? si ragazzi che in realtà queste partite non mi sento odore di perdente ma non ti sento mike ragazzi io dico una cosa ma questa è problematica perchè non so se la connessione internet all'uno che non c'è veramente non mi senti e ragazzi detto questo siamo riusciti a vincere questa partita ripeto se volete andare a vedere la prima che abbiamo disputato dovete andare sul suo canale che vabbè si trova in descrizione oppure cliccate sulla sua faccia detto questo io non entro da dire tu vuoi aggiungere qualcosa? si si diciamo che ragazzi queste partite non hanno rivelato il mio reale valore perchè veramente partite bloccate a centrocampo ci tenevo a fare bella figura non ci sono riuscito chi lo sa magari ragazzi voi mettete tanti mi piace convincerete forse mi raccomando esatto convincerete forse questo video deve raggiungere si ora non riusciamo a sincronizzare negli orologi parliamo si insieme non mi ho cavallato non mi ho cavallato questo video va scusa non mi ho cavallato deve raggiungere i 5000 mi piace ne vogliamo 5000 possiamo raggiungerli ma possiamo raggiungere anche 6000 però noi ne vogliamo 5000 per poi strafare 6000 vabbè fa niente non si starà capendo niente comunque bordello ragazzi il concetto è quello si cacciara buttiamolo tutto in cacciara no a parte gli scherzi mi sono divertito grazie Axel di avermi ospitato qui sul tuo canale grazie a te quindi ragazzi detto questo noi vi salutiamo vi saluto prima io dicendo potente a palacente al prossimo video ciao a tutti ciao ragazzi dal lag ciao ciao